Il Lazio, una regione ricca di storia, cultura e natura. Quattro laghi da vivere, Bracciano, Vico, Bolsena, Albano, tutti di origine vulcanica. Le loro acque hanno cullato la civiltà etrusca e romana. Andremo alla scoperta delle meravigliose aree lacustri nei pressi di Roma. Il Tour dei Laghi è la proposta unica per chi vuole conoscere gli aspetti del nuoto in acque libere, migliorare e approfondire gli allenamenti in open water. Unisciti a noi per scoprire i caratteristici bordi del centro Italia ed assaporare la millenaria cultura romana. Tour dei Quattro Laghi, solo con Swimming Travel.